In questo momento storico, delicato il confronto tra Stati Uniti e Russia si sposta anche nello spazio. Dopo 50 anni, Musk annuncia il lancio di una sua missione sulla Luna. Salvo rinvii, l'11 agosto, il veicolo di atterraggio Luna 25 dovrebbe decollare dal cosmodromo di Mostochny, con un razzo vettore Soyuz, con destinazione al polo sud lunare. La missione spaziale russa testerà la tecnologia di atterraggio, estrarrà e analizzerà il suono della Luna, perché si tiene che possa contenere ghiaccio.